Verificare la copertura vaccinale sul personale sanitario, il più esposto al virus. Per questo sono state redatte le linee guida dall'Agenzia Sanitaria Regionale già trasmesse alle ASL regionali, che introducono precise scadenze e procedure per monitorare il pattern anticorpale protettivo. Questa iniziativa, spiega l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verri, si propone tre obiettivi principali. Ridurre i rischi per chi è più esposto al patogeno, contenere il contagio tra chi accede alle cure sanitarie, scongiurare chiusure e blocchi nelle attività assistenziali. A distanza di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, tutti gli operatori sanitari delle ASL abruzzesi saranno sottoposti da parte del medico competente a un prelievo venoso standard per valutare la risposta quantitativa degli anticorpi diretti contro la proteina Spike di SARS-CoV-2. Il dosaggio anticorpale va ripetuto dopo un anno dalla vaccinazione. I risultati di questo screening, aggiunge il direttore dell'ASR Pierluigi Cosenza, andranno comunicati tempestivamente all'Agenzia Sanitaria, così da adottare le azioni necessarie ad orientare il programma vaccinale con eventuali dosi di richiamo per prevenire il rischio di infezioni in operatori sanitari già vaccinati, ma anche, conclude Cosenza, per pianificare i programmi di sorveglianza sanitaria a cui gli stessi vengono sottoposti da parte dei medici competenti. Gli operatori sanitari sui quali sarà attiva la sorveglianza da parte dei medici competenti della medicina del lavoro e delle singole ASL includono tutte le professioni sanitari, compresi i medici specializzandi.